Inizia da oggi in Abruzzo con grande difficoltà lo screening di massa con l'esecuzione di test sierologici nelle farmacie dell'intero territorio regionale. Il test sarà gratuito per studenti, personale scolastico e universitari. Per tutti gli altri il costo è di circa 15 euro e bisognerà prenotarlo dal proprio farmacista. Nonostante l'iniziativa sia frutto di un accordo sottoscritto da Regione, Federfarma e Assofarm, tanti sono i problemi logistici che le farmacie stanno riscontrando per realizzare la campagna. A Teramo Città, per esempio, nessuna delle farmacie del centro storico ha ancora aderito per mancanza oggettiva di spazi interni da poter dedicare all'esecuzione dei test e per la carenza di personale. La prima farmacia teramana a partire sarà per il momento solo quella periferica di Villa Mosca, annuncia Carlo Zuccarini, presidente di Federfarma Teramo, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione. Per quanto riguarda il territorio provinciale, le farmacie già operative sono quelle di Valvomano e Bellante. Quest'ultima, non avendo locali interni adeguati, ha affittato un container che stazione ad avanti alla farmacia stessa. Domani partirà Giulianova con la farmacia Ielo e da giovedì con la farmacia Parere Strobe, che hanno invece sistemato all'interno uno spazio sicuro completamente dedicato ai test. Ma cosa non ha funzionato? La data di partenza non era tassativa, spiega il presidente di Federfarma Teramo. È stato fatto tutto in fretta, ma le farmacie si stanno attrezzando. Col passare dei giorni la maggior parte di loro sicuramente aderirà alla campagna. Su 94 farmacie, 75 sono quasi pronte a partire. Alla fine, conclude Zuccarini, è probabile che solo il 10% non aderirà. Tutti allora potranno sottoporsi al test? A chi verrà negato? Verrà negato solo a chi ha la febbre o sintomi influenzali o a chi convive con un positivo al covid.